Che lavoro ho fatto nella mia vita? Nella mia vita ho fatto principalmente l'insegnante. Ho insegnato per moltissimi anni. Mi sono orientato in diversi ordini scolastici. Ho insegnato dalla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media e alle scuole superiori. Nell'ultimo periodo della mia vita ho insegnato alle superiori. Insegnavo italiano, storia. La mia laurea mi dà la possibilità anche di insegnare storia dell'arte. Sono laureato in storia dell'arte. Esattamente mi sono laureato in storia della musica con una tesi in cui ho discusso i nuovi strumenti nati dal computer in campo musicale. I miei interessi sono molto vari. Sono molto curioso e quindi avrete spesso dei video che trattano di curiosità. di cose che mi interessano. Quindi ho ritenuto importante continuare anche in pensione l'attività di divulgatore. Spero che vi piacciono e in qualche modo possono essere utili i video che realizzo costantemente e che pubblicherò tutti i giorni sul mio canale. Grazie per la visione!